Nicola Molteni, lei ha detto che il governo sta trattando la marina come il catering dei clandestini, perché? Siamo sempre di più di fronte ad un'invasione colossale, ormai dal 1 gennaio 2014 sono stati accolti sul nostro territorio qualcosa come 50.000 immigrati clandestini, ormai siamo all'invasione vera e propria. Questo è l'unico governo al mondo che utilizza la marina militare non per controllare i territori, non per controllare i confini, ma come catering dell'immigrazione. Andiamo a prenderli, li portiamo sul nostro territorio, gli garantiamo stipendio, vitto, alloggio e il pagamento delle sigarette. Questa è una vergogna, l'immigrazione clandestina in Italia è aumentata dell'823% negli ultimi 4 mesi, in Spagna è diminuita del 90%. E queste sono le conseguenze delle politiche totalmente fallimentari del governo dei sinistri e del ministro Alfano. L'Italia sta assumendo posizioni assolutamente demenziali, l'Europa se ne frega. La Lega cosa chiede? Chiede immediatamente la sospensione dell'operazione Mare Nostrum che costa 190 milioni di euro all'anno e chiede un impegno serio da parte dell'Europa. Se il ministro Alfano non si decide ad attuare delle politiche di controllo nel nostro territorio, il ministro Alfano fa bene a dimettersi immediatamente. Oltretutto questi immigrati una volta che arrivano sul nostro territorio, nella maggior parte scappano o vengono abbandonati a se stessi, come ha denunciato un'associazione che si occupa di immigrati, che nella scorsa notte sia a Roma che a Milano e a Rogogredo sono stati abbandonati a se stessi. La situazione ormai è totalmente esplosiva, è totalmente esplosiva anche per le difficoltà ormai che hanno gli enti locali per poter gestire questi fenomeni. Queste politiche filo-immigrazioniste e la politica delle porte aperte da parte della sinistra sta portando solo ed esclusivamente problemi, non solo di ordine gestionale ma anche problemi di ordine pubblico e anche problemi di natura sanitaria. E' di questi giorni la notizia che otto agenti della Marina Militare sarebbero risultati positivi alla tubercolosi, cosa che la Lega aveva già denunciato qualche settimana fa. Un'operazione folle, un'operazione totalmente fallimentare, un'operazione di cui la responsabilità è unica ed esclusiva in capo al governo. Un governo serio dovrebbe immediatamente dismettere l'operazione Mare Nostrum e dimettere il ministro dell'Interno.